Si apre una finestra, o meglio dire una porta, per il bis d'Antonietta Laporta in Consiglio regionale. Il riconteggio dei voti con i dati definitivi infatti ha spostato una casella importante, consegnando la seconda posizione, primo de non eletti nella lista della provincia di Pescara di Forza Italia, Antonio Zaffieri, facendo quindi scendere Paolo Cilli, fedelissimo di Lorenzo Sospiri, al terzo posto, secondo de non eletti. Per questo motivo il Presidente del Consiglio uscente, che prima era candidato a ricoprire il ruolo dell'esecutivo, anche per far posto a suo fedelissimo, potrebbe restare nel ruolo avuto negli ultimi cinque anni. Questo porterebbe alla nomina di Assessore per Roberto Sant'Angelo, anziché a Presidente del Consiglio, primo degli eletti azzurri in provincia dell'Aquila, dietro il quale c'è appunto Antonietta Laporta, che in tal caso tornerebbe all'emiciclo per un mandato bis. Sarebbe per la Valle Pelinia la terza consigliere regione, insieme a Marianna Scoccia, che con i moderati si è assicurata lo scranno alle urne, unica eletta, e Maria Assunta Rossi, terza nella gradatoria di Fratelli d'Italia in provincia dell'Aquila, che entrerà, la nomina è una delle poche certezze, al posto di Mario Quaglieri, che andrà sicuramente a ricoprire un'altra volta un posto nell'esecutivo.